Torna anche quest'anno Vivi il Verde alla scoperta dei giardini dell'Emilia Romagna il 21, 22 e 23 settembre. Anche quest'anno sono decine e decine gli eventi da Piacenza a Rimini realizzati da istituzioni e associazioni pubbliche e private che con grande entusiasmo, come sempre, hanno aderito alla nostra chiamata. Se sfogliamo il programma disponibile sul nostro sito, sono davvero tanti gli appuntamenti da non perdere. Partiamo con la mostra che inaugura l'evento venerdì 21 settembre, Tessere Giardini, un itinerario floreale alla scoperta del Museo del Tessuto Vittorio Zironi di Bologna, Villa Spala. Andremo poi all'Orto Botanico, come di consueto è sempre nostro partner, per iniziative e conferenze. Faremo un interessante tree tracking col coro, un'iniziativa nuova che organizziamo assieme a tre cori alla scoperta, nel centro di Bologna, degli alberi monumentali d'Italia. Ricordiamo anche il nostro Museo Regionale Geologico Sandra Forni, che partecipa con un evento e la presentazione della sua guida. Ricordiamo anche in provincia Villa Smeraldi, il Museo della Civiltà Contadine, il suo bellissimo parco romantico all'inglese. E anche Grizana Morandi, con un'iniziativa davvero speciale, vedremo il giardino di Casa Morandi e soprattutto scopriremo il progetto del pomario intorno al giardino, in quel paesaggio in cui il maestro vedeva addirittura 70 sfumature di verde. Andiamo invece in altre province. Ricordiamo a Reggio Emilia il Parco del Mauriziano, protagonista di questa iniziativa anche quest'anno. Il Fai Giovani ci dà una mano con escursioni e visite a Bologna, a Ravenna, nel Forlivese. Un approfondimento sui giardini rinascimentali, in particolare legato alle delizie sensi, sarà a Ferrara e al Castello di Berriguardo. Ricordiamo anche l'apertura straordinaria del giardino di Casa Romei, sempre a Ferrara. Il giardino del Museo Archeologico di Ferrara, un bellissimo giardino rinascimentale. Parco Massari, a Ravenna andremo alla scoperta del Parco Teodorico e dei giardini pensili della Critta Rasponi. Andremo a Cesena, al Parco della Rimembranza. Al Parco della Resistenza di Forlì avremo un evento, una rassegna per due giornate con tantissime, tantissime iniziative. Anche i protagonisti sono i giardini storici delle grandi ville. Ricordiamo il giardino storico di Villa La Babina, a Sassu Morelli, in provincia di Imola. L'apertura straordinaria quest'anno di Villa Fantina a Tre Dozio, con una bellissima escursione anche nel Parco delle Foreste Casentinesi. Il Parco di Villa de Vergea, a Rimini, realizzato da Pietro Porcinai. Il Parco Fellini, con un'escursione nuova ed esclusiva realizzata proprio per Vivi il Verde. Ricordiamo anche l'escursione a Cervia, con la manifestazione Cervia Città Giardino, e un'escursione finale a Pennavilli. L'occasione per rivivere il verde in tutte le sue sfumature non mancano. Buon Vivi il Verde a tutti!